di nuovo qua di nuovo qua per altri due gironi ormai siamo quasi giunti alla fine anche di questo secondo turno che finirà domenica oggi andiamo a vedere i gruppi 19 e 20 in entrambi i gruppi troveremo una squadra africana una asiatica e una europea chi vincerà chi lo sa nel gruppo 19 ci saranno tunisia arabia saudita e finlandia nel gruppo 20 uzbekistan croazia e angola per quanto riguarda i miei pronostici nel video di ieri ho fatto zero su due perché avevo detto germania butan sono passate pakistan e comore quindi siamo a 9 giuste e 9 sbagliate oggi prendo le due europee forza europa devono passare entrambe finlandia e croazia dunque io mi prendo le due europee vediamo dunque chi passerà il turno gruppo 19 che inizia con tunisia arabia saudita tunisia in bianco arabia saudita in nero finisce 2 a 2 dunque un pareggio che potrebbe essere molto importante molto utile soprattutto per la finlandia che adesso esordisce in casa contro la tunisia finlandia in bianco tunisia in nero attenzione 11 attenzione un altro pareggio potrebbe essere un girone dei pareggi la tunisia conquista il secondo punto primo invece per la finlandia due pareggi due punti per la tunisia uno per l'arabia saudita finlandia arabia saudita finlandia che ora si affrontano nella terza partita del girone arabia saudita in bianco finlandia in nero vediamo se ci sarà un altro pareggio no vince 4 2 l'arabia saudita dunque l'arabia saudita sale a 4 a 4 punti si lascia dietro la tunisia a 2 e la finlandia a 1 vediamo nel girone di ritorno se cambia qualcosa a partire da tunisia finlandia tunisia in bianco finlandia in nero la finlandia bisogna di vincere invece è un altro pareggio tre pareggi su quattro partite credo sia un record poco ci manca la tunisia ha fatto tre pareggi in tre gare quindi sale a tre punti mentre la finlandia sale a due soli punti tutto sembra fare il gioco dell'arabia saudita che rimane in testa con quattro punti ancora due partite da giocare arabia saudita tunisia se l'arabia saudita vince passa il turno se pareggia invece deve aspettare ancora attenzione arabia saudita in bianco tunisia in nero vediamo l'arabia saudita se chiude i conti no perde addirittura 5 a 22 l'unico per l'arabia saudita 5 per la tunisia la tunisia chiude con sei punti frutto di una vittoria ben tre pareggi l'arabia saudita si ferma a quattro punti e ora attenzione perché automaticamente la finlandia viene eliminata si viene eliminata perché soltanto due punti anche vincendo andrebbe soltanto a cinque punti quindi ho sbagliato anche questo pronostico e l'europa è sempre più in crisi ma attenzione disputiamo l'ultima partita finlandia arabia saudita importantissima perché l'arabia saudita se vince supera la tunisia a sette punti e vince il girone ma deve assolutamente vincere perché un pareggio non basterebbe andrebbe soltanto a cinque punti finlandia in bianco arabia saudita in nero vediamo se l'arabia saudita riesce a vincere no 4 a 0 una vittoria della finlandia completamente inutile la finlandia va a 5 l'arabia saudita clamorosamente subisce due sconfitti nelle ultime due partite e chiude in fondo al girone addirittura al terzo posto la squadra qualificata di questo gruppo 19 è la tunisia che così porta a 7 il numero delle africane qualificate al terzo turno ci vediamo fra poco per il gruppo 20 un'altra africana dunque abbiamo visto qualificata vediamo se l'asia risponderà o se sarà la volta dell'europa con la croazia squadra che io ho preso quindi uzbekistan croazia e angola disputiamo questo girone gruppo 20 uzbekistan in bianco croazia in nero vince la croazia attenzione inizia col piede giusto la croazia conquista i primi tre punti si invola verso la qualificazione forse angola uzbekistan angola in bianco uzbekistan in nero non si ferma dato è uscito quindi è uscito dal cerchietto quindi io ripeto il lancio così dice il regolamento uzbekistan angola in bianco uzbekistan in nero attenzione finisce 5 a 4 per l'uzbekistan dunque la squadra fuori casa che conquista i primi tre punti dopo la sconfitta nella prima partita mentre parte male l'angola con una sconfitta 0 punti in classifica attenzione croazia angola quasi che può andare a 6 ma deve vincere croazia in bianco angola in nero 5 a 0 per la croazia e forse questa è la volta buona anche per me di ritornare a indovinare un pronostico 5 a 0 la croazia chiude il girone d'andata in testa con 6 punti segue l'uzbekistan a 3 e l'angola a 0 attenzione ora c'è proprio uzbekistan angola uzbekistan in bianco angola in nero finisce con la vittoria dell'angola 2 a 3 dunque l'uzbekistan sconfitto rimane 3 punti viene raggiunto proprio dall'angola e ora la croazia basta un punto per qualificarsi con due sconfitte andremo ancora tutti a 6 punti e bisognerebbe vedere anche in questo caso la differenza di reti totale croazia uzbekistan attenzione basta un punto la croazia per passare croazia in bianco uzbekistan in nero 5 a 1 bella vittoria netta e decisa e decisa 5 a 1 la croazia punteggio pieno con 9 punti lascia l'uzbekistan a soli 3 punti uzbekistan ha finito le proprie partite tutto deciso in questo girone ha vinto ed è qualificata la croazia disputiamo l'ultima partita angola croazia angola in bianco croazia in nero vince la croazia che fa 12 punti dunque punteggio pieno tutte vittorie la croazia chiude con 12 punti si lascia dietro a soli 3 punti uzbekistan e angola dunque la ventesima squadra qualificata al terzo turno terza europea è la croazia nel video di oggi dunque abbiamo visto le qualificazioni di tunisia e croazia nel computo totale a 4 soli gironi dalla fine del turno abbiamo 7 squadre africane uganda senegal bozvana ghana congo comore e tunisia 6 squadre asiatiche birmania thailandia nepal giordania giappone e pakistan tre squadre europee giorgia vaticano e croazia due sud americane colombia e bolivia una oceanica samoa e una nord americana antigua e barbuda noi ci vediamo fra poco per il sorteggio dei gruppi 21 e 22 estraiamo oggi dalla scatola magica le sei squadre che vedremo nel video di domani gruppo 21 ci sono ormai solo 12 squadre nella scatola la grecia tornano prepotentemente le europee grecia dunque farà parte del gruppo 21 e avversari della grecia la cina ecco la cina che se non sbaglio è stata la prima squadra a qualificarsi vinse infatti il gruppo 1 del nostro mondiale del primo turno ora affronterà la grecia per provare a qualificarsi al terzo turno la top 24 la terza squadra è un'altra squadra asiatica la cambogia dunque grecia cina e cambogia dunque due asiatiche contro una europea mentre nel gruppo 22 la prima squadra del gruppo 22 ritorna nel nord centro america con el salvo l'alvador vediamo se si inquadra bene la bandierina el salvador squadra del centro nord america che si troverà nel girone con un'altra squadra asiatica la palestina d'altronde ce n'erano 23 23 su 72 palestina dunque con el salvador l'ultima squadra del gruppo 22 è questa qua apriamo il bigliettino dovina da dove viene dall'asia catar ma quante ce ne sono di asiatiche clamoroso catar dunque farà parte del gruppo 22 anche nel prossimo video vedremo quattro squadre asiatiche nel gruppo 21 ci saranno grecia cina e cambogia nel gruppo 22 invece el salvador palestina e catar vi annuncio già che voglio tifare non le asiatiche quindi grecia ed el salvador saranno le mie due favorite di domani voi scegliete le vostre favorite poi vediamo chi vince chi ne indovina di più ci vediamo domani per il penultimo video del secondo turno a domani ciao